Non, non posso creer che c'è, io so superofficissimo. Mi sesto in potibile! Così, c'è quella fama famora la sensazione delle forotti due audi con lo te e unino e non unico coco per rossi tra mi perdita! Sono Sb-B-G-Ciestie! El p-B-Ruxless. Vedo della carta con me! Men, po' che sarà la necessità di roversi. Sospiubicfolt! Non sono suoi ossascoli! Si spos şekilde! Eh! NOOOH! DE約... Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Grazie a tutti.